La prima lettura tratta dal libro del profeta Daniele e ci narra del re Baldassar, che durante l'euforia di un banchetto vide apparire una mano che scriveva qualcosa di incomprensibile sul muro della sala del banchetto, una mano divina, e allora convocò Daniele, conosciuto per il dono di interpretare sogni e misteri intricati, il quale spiegò al sovrano il senso di quelle parole, di cosa aveva scritto quella mano misteriosa, rivelando che preannunciava quella scritta alla fine del suo regno, poiché, come disse Daniele, tu hai reso lode agli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. Tornando al discorso di ieri, dobbiamo imparare a distinguere ciò che è eterno da ciò che non lo è, per non riporre tutta la nostra fiducia su cose che svaniscono. Con questo non vuol dire disprezzare la bellezza che ci circonda, ma significa aver chiaro che è un mezzo e non il fine la bellezza. Vi sono infatti cose che non hanno durata eterna, ma che ci aprono all'eternità, penso alla natura e all'arte. Grandi opere d'arte che esistono da secoli, pensate alla Cappella Sistina, il David di Michelangelo, la ragazza con l'orecchino di perla, la primavera di Botticelli, città d'arte come Firenze, Roma, Venezia, potrebbero svanire in un attimo, essere distrutte in un secondo. Con questo non significa che non dobbiamo innamorarci dell'arte, appassionarci ad essa, ma dobbiamo essere consapevoli che le opere non durano per sempre, così come nel caso della natura. È magnifica, ma un paesaggio, una località potrebbe distruggersi in pochi minuti. L'arte, la natura, è vero che potrebbero svanire in un attimo, ma hanno una missione attraverso la loro bellezza ricordarci e rivelarci che abbiamo un'anima, che c'è qualcosa di eterno, che c'è ben di più oltre alla dimensione materiale. La bellezza è un mezzo e non il fine, come il Tempio di Gerusalemme era un segno che doveva rimandare a Dio, così le nostre chiese, la natura, un'opera d'arte, come un libro, un film, un dipinto, una scultura, una canzone, non sono eterne, ma ci rimandano all'eterno. Ricordano noi umani, troppo spesso sintonizzati solo sulle cose materiali, che in noi c'è di più, che possediamo sentimenti, emozioni, che abbiamo un animo, un'anima. Circondarci di cose belle non è un male, ma dobbiamo ricordarci che sono la strada, non sono l'arrivo. La bellezza delle cose ci dovrebbe rimandare a una bellezza superiore, eterna, divina, mentre spesso le stiamo inchiodati al mondo orizzontale. In questo senso è opportuno distinguere che forse non tutto ciò che ci sembra bellezza è per il nostro bene. Occorre chiederci quale bellezza mi apre all'eterno e quale invece mi schiaccia sul mondo materiale. C'è una bellezza che ci inchioda e un'altra che ci fa volare. Impariamo a distinguerle. Buona giornata.